Voi spacciate la droga, è vero? Sono molti quelli che spacciano? Sì, sì. Sono parecchi? Sì, sì. La gente ce l'ha con loro? Sì, loro che stanno dietro persone, non ti conosci, capito? Ah, un centinaio le persone che spacciano, eh? Sì, sì. Tanto nero che stanno qua per spacciare. Difficile per una persona che lavora qua. Vivere senza spacciare è difficile, dici? Sì, certo. Anche io sono persone pulite. Tu dici io non spaccio, però vivere senza spacciare è difficile? Sì, sì. Io non vivere senza spacciare. Però molti hanno bisogno di spacciare per vivere, questo stai dicendo? Sì. Molti devono spacciare per vivere. Io tu vai alla strada, per qualcuno tu aiutami per mangiare, perché io non mi piace spacciare. Tu dici io non so come mangiare, quindi qualcosa devo fare. Stai piangendo adesso. Perché? Ce l'ho due figli nel mio paese. Venito qua per vivere, per mio figlio, vai alla scuola. È difficile vivere, riuscire a vivere qui senza spacciare la droga? Sì, è difficile. Soldi di spacciare per dare a tua famiglia per mangiare, quello non va bene. Tu dici non va bene spacciare per mandare soldi a casa? Sì. Però molti lo fanno. Sì, chiaro. Prima ci ha detto un centinaio di persone qui spacciano. Sì.